Buongiorno, ci troviamo a Palombara, Sabina. E stiamo visitando, alzo la voce perché il microfono che noi abbiamo lì dentro, stiamo visitando la villa del nostro cliente. Prego. Allora, questo cancello è automatico, vero? Sì. Qui c'è, intanto un comodo piazzale, un ettaro di terreno che è praticamente quasi un prato inglese, se tu vedi è, non dico pianeggiante, ma comunque è quasi tutto utilizzabile. Facciamo due passi, Pietro. Il microfono, se viene un'altra domanda, la prima cosa che farei è, siccome noi abbiamo un grand'angolo, sembra più lontano, ma io farei osservare la bellissima vista di Palombara, che si vede dalle camere da letto. E lì c'è Sant'Angelo Romano. Ma quella vista lì mi sembra particolare, eh? Vedi? Molti di ugretti. Da dove noi veniamo, io e Pietro, siamo di quella zona. Allora, andiamo avanti. E sei d'accordo, ti chiami? Maurizio. Maurizio, facciamo un giro del terreno prima, ok? Vieni, 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 velocemente, dobbiamo andare a un passo per l'olio, se no ci mettiamo sotto tempo. Quante piante di olivo hai? Tra grandi e piccole, 150. 150 piante. Che sono a 30 kg da frutta. 30 kg da frutta, devi stare la voce. Eh, arrivo. E andiamo subito nella veranda. Questa è tutta nuova questa pavimentazione, vengo. Vengo. Questa è sastagna? Ma no. Non mi ricordo. Allora. Allora, qui abbiamo questo piazzale che è una veranda. Sono 35 chilometri e 72 chilometri. Sì. Oh, qui siamo ritornati sul piazzale dove abbiamo visto. Bene, allora qui si finisce la visita dell'esterno e cominciamo la visita dell'interno. Questo l'ho lasciato per metterci nella piscina. Sì.